questo carabiniere super geloso della moglie decide di fargli un blitz notturno per appurare se ha l'amante e per fare questo fa finta di partire per un viaggio di lavoro di una settimana allora gli dice alla moglie ciao caro allora domani partirò per questo viaggio di lavoro di una settimana insomma ci si rivede la settimana prossima per te non è un problema vero ma no caro ci mancherebbe il dovere prima di ogni cosa insomma l'indomani lui fa finta di partire e gli dice ciao amore ci vediamo tra una settimana allora sì ciao caro allora ci vediamo la settimana prossima certo insomma la stessa notte alle tre di notte torna presso il suo appartamento quindi apre la porta della sua casa ad agio lasciando le luci spente ovviamente si introduce in casa sua e inizia a camminare tastoni quindi dice ecco questo è l'armadio del soggiorno bene questa è la televisione ecco la porta della camera da letto insomma apre ad agio la porta della camera da letto sempre a luci spente ovviamente allora si avvicina pian piano al comodino del letto tocca il comodino e pensa tra se e se ah ecco il comodino è tutto a posto ah eccola baciur perfetto a un certo punto tocca la moglie ad agio per sentire insomma se è nel letto e la sente pensa tra se e se ah eccola qui l'amore mio meno male insomma va dall'altra parte del letto in corrispondenza del posto dove lui dorme di solito allora prima tasta ad agio il comodino fa ecco il mio comodino tutto bene ecco la mia bajour poi tocca il posto dove lui dorme di solito e tasta ad agio ad agio fa ah ok meno male se sto pure io se ci sto pure io se st